Signore e signori, il mio nome è TheRipper93 e oggi sono qui per farmi una semplice domanda Che cazzo è CrankyCat? What the fuck? Best game 2012 Sir Rosco J. Fluffington III, a.k.a. CrankyCat and its magical machine Best game Best story of CrankyCat! Trump of Fluffington was the handsome kitty of all state New York Heineken Universal Admiration and Blue Ribbons of Lenny But time was at the lollipops to... Non si sente... Non si sente il voice acting What? No time to wait The game is on! What the fuck? Allora Rotate the centerpiece and align spheres of similar coloring Begin Sono bravissimo! Perché è che cazzo è un troll game totale? Ah, posso ruotarlo? Ho capito What the fuck? Is this game? Sono le frecce anche? Merda Guardate questa immagine epica Guardate questo è il best game Ah, devo fare begin Eh fuck però non posso girarlo così Fuck neanche così Questo sì Bam 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 Qua Prossimo Ah, come se ne vanno? Ah, ritornano giù Aha Che skill ragazzi Guardate qua Ehm Bam Questo qua ragazzi è il best game Eh, la cosa La cosa Di questo gioco è che A parte che è una grafica orribile però Oh, non ho visto cosa fanno questi I rub the machine Aha Non ho ben capito che cosa fa Oh Sono solo che ho distrutto un sacco di palline insieme Nel senso che il gioco sarebbe sicuramente da migliorare Combo e cazzi vari Cioè Senza dubbi Però Per il fatto che costa tipo Ehm Costa 2 euro Penso che Nel senso il presto è giustificato È un arcade game In realtà è anche carino come gioco, devo dire Bam Oh, riesco a infiarlo qua in mezzo Nooo Ok Qua Kablam Scomettolo qua Egg Oho The Cranky Cat Cranky Cat IBC Perché Perché ho fatto richiesta di questo gioco Dopo tutto Begin Beh questo livello sembra molto difficile Cos'è tra l'altro questa soundtrack come on Lol Oh Questo gioco qua è veramente trash però è carino What? Non abbiamo capito la meccanica di questi affari onestamente Se colpisco qua Oh shit Hey Sono autodistrutti The brick indestructible by any means Ok Quindi questi non le posso distruggere Bam Aha Ok Guardate qua Pura skill Puro mlg Oh mio dio No Adesso metto vent'anni però Questo è tipo un modo per accelerare ma vabbè non è che sia strettamente necessario però Bam Olè Pabam Lol Non so se andare avanti Perché questo gioco è fantastico Vorrei fermarmi qui Però penso che andrò un altro po' avanti perché Questo qua è il best game Pack Eeeh Olè È imploso Indeed Olè Vincere a caso No Ok Quindi se faccio così esplode Ah Oh effetti speciali ragazzi Attenzione Kablam Kablam No fuck Bam Verde Dallo Olè Ok Ma vero bisogna continuare a accumularlo qua Vediamo un'altra cosa bam Se scopi a farlo qua in mezzo perfetto Perfetto Ehm Qui Oh shit Vai Vincere Olè Ragazzi qui È una skill non indifferente Intanto sto scaricando scrolls Il nuovo gioco di Mojang Quindi intanto che aspettavo ho detto Perché non registrare questo fantastico gioco che mi hanno dato e che sembra incredibile Guardate qua Guardate qua che skill Oh shit Ok Bam Avanti Begin E uno E due E Oh shit Fuck A volte controlli sono un po' troppo sensibili Olè Olè Qua Mmm Ho ancora un achievement ragazzi guardate qua Sono pure gli achievement questo qua è best game Olè Guardate che skill Bam E' stato fatto in unity tra l'altro Non ho visto moltissimi giochi fatti in unity Oh shit Partito a scroll scusate Adesso perdo Ma è possibile perdere tra l'altro in sto gioco Presumo che se raggiungete il bordo di sì Però non sono sicuro La busche è ridicola peraltro Oh mio dio Perché ci sto giocando Guardate che questo sia l'ultimo livello Questo era Cranky Cat H Sir Flaffington Non mi ricordo cosa Il mio nome È TheRipper93 Se volete acquistare questo gioco Potete trovare su Steam Ha la modica cifra di 2 euro Per ore e ore di Gattesco intrattenimento Con musiche strane E altre cose Intanto per finire Per questo gioco vorrei vedere Quanti livelli ci sono Non ne ho idea Non ne ho proprio idea Ci sono 9 stelline però Che non mi di No apparentemente me le dice Non le ho viste Quindi grazie a tutti per aver visto Ehm What? Ah Abbiamo un sacco di livelli Guardate qua C'è anche il tasto che non c'è Quindi grazie a tutti Come sempre Il mio nome è TheRipper93 E ci vediamo alla prossima Alla prossima Alla prossima